Da vittima di un tentato furto ha denunciato e è accaduto a tre baseleghe. Un 47enne ha chiamato i carabinieri perché il suo appartamento era stato preso di mira dai ladri. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione hanno cominciato il sopralluogo e hanno trovato stupefacenti e spinelli. Insospettiti dal forte odore di cannabis, i carabinieri hanno infatti controllato meglio nelle stanze del padrone di casa e hanno recuperato 6,5 grammi di marijuana, 4,4 di hashish e 2,3 grammi di semi di cannabis, oltre a due spinelli già confezionati e due bellancini di precisione. Il materiale è stato immediatamente sequestrato ed è costato una denuncia per spaccio al proprietario.